benvenuti ad un nuovo episodio di gong 10 minuti con round 2 partiamo subito con le prime due notizie di questa settimana la prima arriva direttamente dal tenno con la convention che digital extreme tiene ogni anno per aggiornare gli appassionati della sua produzione warframe sapete che digital extremes è un team di sviluppo che si è dedicato per lungo tempo a come posso dire delle produzioni classiche ha sviluppato dark sector il secondo the darkness e poi si è lanciata diciamo in un progetto che è warframe che è diventato uno dei game as a service più quotati un free to play giocatissimo e quindi il team ha poi mollato diciamo ogni altra tradizionale ogni altra produzione tradizionale e si è focalizzato solo su questo progetto cresciuto a tal punto che ogni anno si tiene questa convention in cui vengono annunciate le novità solitamente le novità riguardano appunto espansioni nuove attività che vengono integrate nel gioco detto che scusa fra solo per fare il punto per chi magari non conosce nei dieci anni di supporto warframe è veramente cresciuto tantissimo sia in termini di numeri che in termini proprio di esperienza di gioco si è ampliato molto con proprio novità di gameplay clamorose eccetera eccetera facendo un percorso per certi versi anche molto più se vogliamo coraggioso di quello che ha fatto per esempio destiny di produzione e di aggiunta di contenuti senza ombra di dubbio tant'è che proprio in virtù di questo percorso il gioco è riuscito a rimanere diciamo sempre molto molto vibrante attivo pieno di giocatori nonostante sia partito più in sordina di destiny perché non aveva dietro activision abbondantemente tuttavia dicevo la questa edizione del tenno con è importante perché gli annunci non si sono focalizzati solo sulle novità di warframe ma è arrivato appunto dopo un decennio in cui il team era rimasto confinato nel mondo fantascientifico di warframe l'annuncio di una nuova ip sì questa nuova ip è stata presentata direttamente dal palco mentre è avvenuto un passaggio di consegne simbolico con dei pantaloncini tra l'altro consegnati a una sviluppatrice delle nuove leve diciamo del team che continuerà a occuparsi di warframe mentre appunto i designer più importanti quelli che hanno contribuito a dare il volto alla creatura che tanti milioni di utenti appassiona si dedicheranno a una nuova ip dal nome particolare nel senso che si chiama soulframe e già sul nome si potrebbe aprire un minimo di chiacchiera perché il frame che hanno tenuto nel titolo identifica i nomi delle loro armature detto che questo gioco è teoricamente nello stesso universo ma un'ambientazione diversissima fantasy di cui vi parleremo tra poco quindi se quella parte diciamo di conservazione dell'idea del frame ci sta è un po' il loro marchio di fabbrica la parola soul oggi nell'ambito videoludico identifica giocoforza un mondo che è quello di de takami e zaki dei souls like eccetera eccetera e forse sa un po' di paraculata la scelta di non che si siano comprati la parola souls quelle di from software però è inevitabile che nella testa dei consumatori il richiamo vada subito lì forse oggi potevi scegliere qualcos'altro visto che il genere non è assolutamente quello diciamo che magari c'è anche un motivo forte a livello creativo spiegato da alcune caratteristiche dell'ambientazione per fare questo riferimento alle anime che però per ora non sono emersi no per ora non è emerso ma se anche ci fosse diciamo che la realtà dei fatti è che oggi mettere souls nel titolo significa andare a innescare un certo tipo di pubblico e anche creare un certo tipo di aspettative che poi non c'entra comunque di chiacchiericcio magari più che di aspettative ma secondo me anche di aspettative cioè secondo me stai attivando un po' un pubblico che con la parola souls che la utilizza per associandola ad un archetipo anche videoludico fra l'altro forse rischi anche un pochino perché poi il titolo è un action rpg con degli elementi da mmo difficilmente poi integrerà delle dinamiche di souls e quindi insomma è un po' reward risk and reward da una parte la reward è quella di attivare un pubblico infinitamente vasto e molto molto focalizzato al gaming dall'altra il rischio è quello di creare un'aspettativa che poi non vai a mantenere però insomma vedremo e diciamo che questo questo titolo in sviluppo assolutamente non c'è nemmeno una data non lo vedremo mai prima di un paio di anni credo è un'idea sicuramente affascinante si ispira a livello di ambientazioni e di suggestioni così tematiche a due come dire franchise particolari uno è principessa mononoke di miyazaki non quel miyazaki non in italia e l'altra invece è la storia infinita che è un po' un cult degli anni 80 90 magari non tanto sulla cresta dell'onda ma che ci sta a livello di sensibilità e questo tipo di approccio di sensibilità di particolare forse rapporto anche con la natura è quello che emerge in questo trailer da cinque minuti abbondanti che sembra quasi un cortometraggio in cui non c'è assolutamente gameplay ma c'è questo sguardo a un universo molto particolare perché è sicuramente fantasy con però degli elementi anche un po' particolari a livello di tecnologia di energie strane di armature che richiamano un po' anche le armature un po' sci-fi di dei tenno ma la particolarità è che appunto ci sono c'è questa interazione con delle creature con degli animali un lupo che viene liberato un alce con cieca con degli occhi disegnati sulle corna che salva il protagonista uno strano passerotto che in qualche maniera è legato al personaggio tant'è che addirittura nella S del logo c'è questo uccellino che si è appollaiato sopra la lettera stessa e la suggestione secondo me è quella di un gioco che di un trailer in generale che non ti lascia affatto indifferente anzi con un fantasy coraggioso mai tolkeniano quindi comunque sperimentale secondo me ti cattura l'attenzione non poco cioè se l'avessero messo nelle conferenze di quest'estate sarebbe stato forse uno dei punti di forza sono pienamente d'accordo con te fra l'altro io non sono proprio il giocatore target di quel tipo di progetto perché si parla veramente di nuovo di un free to play di un live game che andrà avanti per anni di un gioco che integra degli elementi anche ludici tipici degli mmo sono tutte cose che proprio solitamente non fanno per me eppure vedere insomma questa ambientazione così evocativa così affascinante così stravagante fatta da una parte da scoprire sì a me ha lasciato tanta voglia di saperne di più fatta dicevo da una parte di contatto con una natura che conserva una sua sacralità quasi mistica dall'altra parte invece insomma minacciata da queste questi frame sembrano veramente delle armature però meccanizzate ma costruite con una tecnologia di diversi secoli più antica rispetto a quella di warframe e in effetti diciamo questo strano mix ti lascia addosso una curiosità che ti impone quasi di seguire il progetto quindi sono molto molto curioso di sapere in che direzione andranno e fra l'altro un'altra cosa che dicevo anche oggi in live sono veramente felice per loro come team perché immagino che dopo dieci anni di lavoro su una singola ip per quanto come giustamente dicevi un ip che si è molto evoluta che è cambiata nel corso degli anni ma che quella era ecco avere adesso la possibilità di riversare le energie creative in un nuovo universo in un nuovo immaginario anzi l'universo dovrebbe essere lo stesso però diciamo che la distanza fra la sci-fi e il fantasy è abissale io immagino che per loro sia una liberazione anche dicevi che pure sul palco hanno parlato diciamo di questo sì lui il capo del designer ha detto io sono partito che avevo la barba scura adesso è diventata sale e pepe con questo prossimo progetto diventerà completamente bianca per me è proprio uno stimolo nuovo e vogliamo che digital extremes che oggi è associata alla sci-fi di un certo tipo in futuro invece venga ricordata anche per il fantasy un fantasy ripeto non canonico un fantasy molto personale molto rielaborato che però appunto sicuramente ci ha colpito la seconda parte di questo episodio la prima già dura i dieci minuti che citiamo nel titolo la dedichiamo invece ad una novità legata ad electronic cards un brevetto che con cui la compagnia intende appunto cementare una tecnologia che permetterà di creare dei contenuti di generare automaticamente dei contenuti in game sulla base dello stile di gioco dell'utente che sta fruendo del software si chiama persona driven dynamic content framework nome bello elaborato ed è un brevetto che è stato registrato a marzo e scoperto diciamo questo mese ricordiamo nel parlarne che i brevetti non significano non si traducono automaticamente in tecnologie o cose comunque che poi effettivamente devono succedere devono arrivare sul mercato ma appunto come tale di sperimentazioni e brevetti in questo senso però la notizia è sicuramente particolare e ghiotta sostanzialmente ea starebbe creando un sistema per cui il modo di giocare dell'utente viene riconosciuto e letto dal gioco e ricondotto ad una serie di categorie esatto vengono chiamate player persona queste questi archetipi appunto ce ne sono diversi per esempio vengono citati l'explorer il competitor il collector il support il combatant il tank lead commander e completionist quindi abbiamo proprio anche un elenco e sostanzialmente sulla base di come un utente gioca e della categoria in cui viene ricondotto succedono cose diverse cioè ha delle implicazioni possibili una per esempio è molto banale i giochi che vengono raccomandati cioè sulla base del tipo di utente che sei tu non più del tipo di giochi che appunto prediligi ma addirittura di come ti rapporti al gameplay ti consigliano una cosa piuttosto che l'altra e l'altra cosa forse ancora invece più interessante è che si parla di possibilità di generare contenuti tramite degli algoritmi tramite l'utilizzo dell'ia eccetera eccetera legati appunto all'archetipo stesso di giocatore quindi se sei uno che ama essere ama esplorare dei livelli per trovare tutti i collezionabili verosimilmente in certi tipi di esperienze ti verranno proposte più collezionabili da andare a cercare sì ci sono anche soluzioni un pochino più borigerate delicate diciamo così per esempio potrebbe cambiare il drop rate di alcuni oggetti rari per fare in modo che magari meno pazienti appunto non si spazientiscano o che invece i giocatori più dedicati al farming continuino a giocare certo io non so se questa cosa mi convince o un pochino mi inquieta sono sempre molto sospettoso nei confronti di tutte quelle esperienze che non sono in qualche maniera direttamente completamente scolpite pienamente dal team di sviluppo cioè a me piace più l'idea di un'esperienza che è stata studiata a tavolino per qualcuno funziona per qualcuno non funziona a me quest'idea che tutto debba funzionare per tutto al punto da si mutare forma e addirittura sfuggire poi alle logiche di controllo dell'autore a me non piace tantissimo non so che cosa ne pensi no io sono d'accordo con te anzi mi spaventa pur un po il futuro dove tutto viene generato da algoritmi perché perché sì vedremo vedremo sicuramente però diciamo che a livello anche solo di racconto è una una situazione affascinante capiremo se poi in futuro questa cosa si tradurrà in elementi pratici ricordiamo che tra l'altro electronic arts si è detta molto interessata a l'attenzione all'accessibilità creare dei contenuti che possono appunto dar vita ad esperienze diverse e ad hoc e che tra l'altro l'idea anche quella di poi permettere ad altri sviluppatori di usare alcune delle sue tecnologie proprio quasi un po fatto per il bene comune cioè abbiamo studiato questa cosa qua la mettiamo a disposizione che sembra buono ma poi tutto così con le grandi multinazionali ma con electronic arts in particolare esatto ma vediamo grazie per aver seguito anche questo episodio di gong vi ricordiamo che se volete supportarci il modo per farlo è quello di lasciare una recensione e attivare le notifiche se invece volete supportare il progetto round 2 nella sua interezza magari potete farlo attraverso un abbonamento sul canale twitch in cui ci trovate in diretta tutti i giorni dalle 10 alle 12 conoscenza 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 conoscenza